Ciao a tutti, sono Simonetta e vi presento Rigirotondo, la soluzione per il guardaroba del vostro bambino. Come tutti sapete, i bambini crescono molto velocemente e i genitori devono costantemente aggiornare il loro guardaroba, spendendo un sacco di soldi. Inoltre, spesso accade che molti vestiti, nuovi o seminuovi, rimangano utilizzati nell'armadio. Rigirotondo vuole dare una soluzione a questi problemi, costruendo una piattaforma dove questi abiti seminuovi o nuovi possono avere una seconda vita, condividendo i guadagni con i genitori venditori. Pertanto, da un lato abbiamo i compratori che risparmiano tantissimi soldi comprando questi abiti nuovi o seminuovi e di qualità. Dall'altro lato abbiamo i genitori venditori che guadagnano soldi appunto dagli abiti che altrimenti sarebbero rimasti nei loro armadi. qui potete vedere un wireframe che rappresenta il nostro marketplace che appunto lo realizzeremo. Ma adesso vediamo il funzionamento di rigirotondo. Allora, i venditori ordinano gratuitamente una borsa rigirotondo che appunto riempiranno con gli abiti che i loro bambini non utilizzano più. A quel punto rigirotondo passerà gratuitamente a ritirare tale borsone per portarlo nella propria sede ed effettuare un controllo qualità in base a dei criteri che verranno stabiliti sul nostro portale. Pertanto, gli abiti selezionati verranno messi in vendita sul marketplace. Successivamente i compratori potranno quindi acquistare tali abiti risparmiando fino al 70% e rigirotondo si occuperà anche della fase di spedizione. Rigirotondo condivide quindi i guadagni con i genitori venditori. Qui potete vedere alcuni dei nostri competitor che abbiamo individuato, che sono sia online che è offentato. Grazie. 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 Grazie.